Fondi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il loro utilizzo più efficace. Tematica calda in questo inizio 2020, tematica che questo weekend il Partito Democratico di Pesaro ha voluto approfondire ospitando l'ex Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, oggi responsabile nazionale del PD per l'attuazione del PNRR. Complessivamente, dagli stanziamenti che sono stati previsti, i 66 miliardi sono per i territori, per gli enti locali, quindi per le regioni, per i comuni e per le province. Ovviamente queste risorse vengono riconosciute partecipando a dei bandi, molti di questi sono già in corso, altri usciranno nei prossimi mesi. Gli enti locali, quindi i comuni, le province e le regioni, devono essere pronte nella risposta, a nostro avviso, in due direzioni. Programmando, sapendo, conoscendo il territorio e quindi conoscendo i bisogni reali del territorio, senza che ci siano delle dispersioni ad attività per attività, che poi non possono vedere il cantiere aperto entro il 31-12-2023. Quindi facendo programmazione e ovviamente cercando di valorizzare al massimo i progetti che sono già in uno stato avanzato di maturazione, in modo tale che sempre entro la data fatidica del 31-12-2023 questi progetti diventino cantieri. La Regione Marche, così come tutte le altre ragioni, potrà partecipare attraverso l'utilizzo dello strumento della programmazione dei progetti ai bandi che usciranno proprio finalizzati alla sanità. Ci sono alcune misure sanitarie che però hanno bisogno di un pochettino più di tempo. Penso, per esempio, a tutta la parte relativa alla telemedicina. La telemedicina potrà essere un progetto funzionale quando si saranno realizzati gli altri bandi, quelli della digitalizzazione. Quindi c'è anche una forte interconnessione tra tutte le misure che sono state previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi vedo una fase assolutamente positiva e soprattutto perché c'è un commissario che ha rimesso in ordine alcune questioni che purtroppo per qualche mese erano state un pochettino abbandonate in passato. L'incontro con la De Micheli, organizzato dal PD di Pesaro, ha visto la partecipazione nella sala del Consiglio Comunale di tanti amministratori locali e delle principali sigle sindacali e associazioni di categoria. Come PD cerchiamo di essere coerenti con il nostro impegno per approfondire i temi importanti e fondamentali che sono di attualità. Il PNRR dà all'Italia circa 80 miliardi di investimenti e possono essere utilizzati in maniera efficace e significativa per dare veramente un cambio di passo su vari obiettivi e problemi a cominciare dalla pubblica amministrazione e il tema della transizione ecologica. Seguiranno anche altre iniziative di approfondimento che come Partito Democratico riteniamo utile portare nel dibattito politico della città proprio per essere sensibili e attenti alle problematiche sia locali che nazionali.